A Venezia il sinodo della chiesa luterana in Italia. Le poste italiane hanno emesso un francobollo in occasione dei 500 anni dalla riforma di Lutero. Ci dice tutto Alberto Bregaglia. La drammatica semplicità di una palla d'altare dipinta da Luca Scranach, il vecchio amico di Lutero. Ecco il francobollo che le poste italiane hanno dedicato alla chiesa luterana in occasione del 500esimo anniversario della riforma. La presentazione nella sala della musica di Cassagredo, palazzo storico veneziano, è stato uno dei momenti più significativi del sinodo della chiesa luterana d'Italia che si sta svolgendo in questi giorni nella città lagunare. Una specie di riconoscimento del quale siamo molto grati allo Stato italiano della chiesa evangelica luterana in Italia. Noi siamo poche migliaia, però come abbiamo sentito pure dal Papa all'UNT, ormai il movimento ecumenico ha fatto passi da gigante di cui ci ralleghiamo. Centro dei lavori sinodali è l'isola di San Servolo, iniziative aperte alla città a Cassagredo o nella sede della più antica comunità luterana tedesca fuori dalla Germania, l'ex scuola dell'Angelo in Campo Santi Apostoli, che dal 1813 è locale di culto ufficiale della comunità veneziana e che berumese sarà anche lo schermo di un'installazione del videoartista Philipp Geist. Sono alcune migliaia i luterani in Italia, una presenza che ha sempre visto Venezia come un simbolo, dati i secolari rapporti sia culturali sia commerciali, con la vasta nazio germanica dell'Europa centro-settentrionale e che da qui guarda ora al presente e al futuro. Siamo collegati con altre chiese sia riformate ma anche con la chiesa cattolica e di vivere la nostra fede in Gesù Cristo insieme con loro e di praticare non soltanto questa fede nella preghiera, nel culto ma anche nel nostro impegno sociale.